Adi, associazione per il disegno industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Stavamo dicendo prima di questa grande festa, Kermes, del Salone del Mobile a Milano, è strategico esserci, è strategico incrociare le professionalità. Quanto vale per voi, per l'azienda, presidiare il territorio con la vostra sede, con i tolka, con le persone che lavorano con voi? Per noi il Salone del Mobile è una grande occasione come vetrina perché è importante per Ideal Standard affermare la propria capacità, la propria volontà di lavorare con il trade, lavorare con i professionisti dell'architettura e per questo motivo abbiamo fatto un fortissimo investimento sul mercato italiano in una nuova sede innovativa che in questa settimana sta ospitando diversi talk con ospiti internazionali dove si parla di architettura ma si parla anche di futuro legato allo sviluppo di quello che è il mondo del bagno, allo sviluppo di quello che è l'housing, il co-working e quindi in questa sede innovativa noi cerchiamo di supportare dando contenuti ad una settimana che posiziona Milano all'avanguardia nel mercato del design europeo. Che cosa significa stare all'interno di un'associazione, un'associazione storica come l'Adi che al di là del compasso d'oro e tutte le attività storiche sta lavorando anche su progetti di comunicazione come questo ma soprattutto di condivisione e aggregazione. Ideal Standard è un marchio storico, ha portato delle rivoluzioni all'interno del bagno e quindi nel modo di vita di tutti noi però ovviamente dialogare con gli altri è sempre importante. Per noi l'Adi è, io cito qui una, perdonami, ma il titolo di un film è Ritorno al futuro Ritorno al futuro perché noi siamo stati, abbiamo vinto il compasso d'oro nel passato abbiamo avuto collaborazioni con designer super importanti, Castiglioni, Paolo Tiliche, Matteo Thun, solo per citarne alcuni Gioponti e abbiamo fatto attraverso il lavoro di questi designer abbiamo innovato e rivoluzionato quello che è il mondo del bagno. Oggi vedo qui al salone che il mondo del bagno è diventato sempre di più un ambiente, la stanza del bagno è sempre di più un ambiente importante per dare il design della casa, il tema, la tonalità e quindi è fondamentale per Ideal Standard un ritorno in questo tema, cioè un ritorno, noi vogliamo portare Ideal Standard il design centrale nuovamente all'interno dell'azienda per proporre come abbiamo fatto nel passato, come nella nostra storia, come nella nostra tradizione di cento anni di innovazione riproporre questo tema per il nostro portfoglio di prodotti. Chiuderei questa brevissima conversazione con una domanda, in una nostra recente conversazione hai citato alcuni studi, alcune previsioni rispetto alle città, alla popolazione, ai modi di vita ecco, allora questo è evidentemente il progetto perché il designer prevede, hai detto il ritorno al futuro prevede quello che succederà, però voi siete molto attenti anche a capire dove questo standard ideale può andare, deve andare anche con studi di sociologia ovviamente e tutte le scienze che aiutano a capire dove stiamo andando. Sì, solo cito tre dati perché secondo me sono importanti per capire quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo il primo dato è che il 70% della popolazione fra 20 anni vivrà nei contesti urbani il secondo dato è che più di 3,2 miliardi di persone avranno bisogno di una casa in questo contesto noi abbiamo sponsorizzato con la Domus Academy e con la Naba un design marathon che il cui obiettivo era quello di ripensare al ruolo del bagno in un contesto urbano differente in cui per esempio si avranno delle abitazioni molto piccole con degli spazi privati molto piccoli perché il grande accento verrà posto sugli spazi comuni in cui il co-housing avrà un ruolo completamente diverso dove sostanzialmente tu potrai avere un appartamento di 23 metri quadri che in realtà ha uno spazio living in condivisione molto più grande allora questo mette e pone delle sfide importanti per il design dei vari ambienti e soprattutto per il design dell'unico ambiente che poi rimarrà privato che è quello del bagno questo secondo me è un tema che noi dovremmo affrontare come industria perché probabilmente il bagno che oggi noi vediamo qui al fuorisalone non è il bagno che vedremo fra 15 anni quindi Interstand ha un po' questa ambizione di provare a capire, a leggere quello che succederà nella nostra società in modo tale da essere sempre attuale e proporre una risposta alle nuove esigenze e delle soluzioni che siano soluzioni veramente efficaci in tempi di cambiamenti rapidi anche il lavoro cambia velocemente quindi anche il bagno grazie ADI, associazione per il disegno industriale rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo